Ciao a tutti ragazzi, qui è Endergar che vi parla e bentornati a questo nuovissimo video di God Simulator. Allora, i vicini di casa mia sta tagliando l'intero universo dagli alberi, vabbè. Dunque oggi siamo qui per giocare a Waste of Space, ragazzi, che è un DLC di God Simulator che ancora non abbiamo provato, quindi decidiamo che capra metterci. Cosa ci mettiamo? Capra spaziale no? La caprangelo? Anzi, no, la caprangelo in realtà non serve. Non lo so cosa potremmo prendere. Capra. Zio capra, ok. Dopo salto, inventory e basta. E giochiamo. Ok, allora, in questo DLC ho già completato tutto, ma sarebbe... tu sei caduto con una navicella su questo pianeta e devi aiutare il popolo di questo pianeta, che sono sempre umani, a ricostruire il loro villaggio spaziale, possiamo chiamarlo, prendendo soldi che ottieni magari picchiando a craniate persone, oppure anche distruggendo delle semplici casse. Quindi se si caricasse mi farebbe un piacere. Bisogna? Ok, siamo, ecco qua, vabbè, la mia animazione, niente di che. Ed, sento già la musichetta io? Schianto in male? Eccoci qua. Siamo arrivati. La, non chiedetemi perché, ma c'è scritto sollevato e ci sono... quali sono i miei soldi? Sono 1.109.618. Ok. Entrante, una cosa che ho notato dopo un bel po' che ho giocato questo DLC è che là sotto c'è qualcuno. Vabbè, comunque ora questo non starò a parlare con lui, ma devo ripartire, perché si è bugato. Si è bugata, anzi, la capra. Fatto sta che vi dice tutta la storia, eh, tu ti sei schiantato e ci deve aiutare, così via. Ma non la leggerò perché tanto a noi non interessa minimamente. Però, ripeto, se si caricasse più in fretta, non so cosa abbia da caricare, sinceramente. Beh, voglio dire, ci sono DLC secondo me anche molto più pesante pure. Attenzione! No, sembra che si era solo bloccato. Eh, con Y c'è scritto anche, che se guardate, puoi vedere il tuo progresso. Quindi, eh, tipo, non so cosa si intesa perché penso di non averlo mai usato. Però, quello che hai fatto, insomma. Allora, parla, sì, certamente. Matteo, mio Dio, va tutto a scatti. Perché? Calma. Gioco? Grazie. Ecco, queste casse che vedete le potete distruggere, vi daranno denaro. Oppure, vedete, questa persona che ha il simbolo dei soldi al fianco, le tirate una craniata e le lanciate via. E vi da anche soldi. Eh, sì, anche certe missioni secondarie come questa, che ho appena fatto, danno soldi. Eh, scusate, non volevo. Ma io non ho lato più salto. Ok, era solo buggato. Ho ucciso? Ragazzi, non si muove più. Dovevo portarlo da un pediatra, anzi, da un chirurgo in questo caso. Allora, aspetta, però. Scusa, eh. Signora, ma prima devo fare una cosa. Vi faccio vedere anche qualche missione secondaria di quel che mi ricordo, naturalmente, se riesco. Tanto voi morite, perché non c'è troppo nulla e dovete morire. Primo. Secondo, se ci si, ok. Ma perché io li uccido con un colpo? Vabbè. Mettiamoci qua e... Vendere, vendere, vendere. Aaaaaaah. E voi potete continuare a premere uno che è il tasto per fare bè. E... Vi darà messaggio. Certo. Ok. D'accordo. Ehm... Comunque, lei deve andare dal medico, quindi sbrighiamoci. Allora, andiamo nella colonia. Andiamo di qua. Allora... Oh, scusi. Scusi. Eh, scusi. Eh, scusi. Eh, scusi. Eh, dal medico, mi sa. Eh, mi serve il suo panino. Ok. Allora, diamogli da mangiare. C'è andata. Scomparsa. Perché sei qua? Ok, diamogli allora da mangiare, così almeno... Magari è svenuta per un caldo di zuccheri. Allora, buttiamola qua al centro. Eh, signora... Aspetta, lo faccio vedere. Questa donna ha bisogno di un medico. Sta male e ha fatto un'incidenza sul lavoro. Dove devo andare? Prego il caffè, eh. Scusi. Pazzo. Eh, di là. Ok. Eh, di qua, colonia. Sì, allora aveva ragione. No, mamma mia, si incastra ovunque. Venga, qui! Ah, posso fare una cosa, Dio. Ok. Adesso l'ho nel mio inventario. Spremo uno. Eccola là. C'è il suo nome. Ok. Allora, si tolga. Allora, prendiamo questo coso. Ok. Eh, non possiamo andare all'accademia. Oh, mamma mia, ok. Possiamo meglio andare a piedi. Allora, io avevo qualcosa che... non mi ricordo con quale tasto potevo usare una navicella. astronave. Mappa. Search world. Y. Cos'è? La mappa. Eh, missioni secondarie. Eh, missioni. No, vabbè. Eh, non so come si facesse. Allora, eh. Dove lo portiamo? Dobbiamo portarlo a qualche parte per salvarlo. Allora, andiamo nell'accademia. Magari qualcuno la conosce nell'accademia e può darci una mano. Aprite! Dai, mi dovete fare la decontaminazione ogni volta. Ah. Signora! C'è una donna che sta male. Dove la posso portare? Mi faccio esplodere tutto. Mi sono anche... Incastrato. Ok, no. Sono riuscito a sbagare. Ok. Accesso negato. Bene. Comunque... Dove la posso portare sta male? Ma che se ne frega? Dell'acceleratore di particelle. Cavolo, dove la posso portare? Info. 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 Posso dirmi? Va bene, sono i ca... Beh, un cappellino me lo prendo. Mi vede solo i cappellini? Ah, me lo sono anche messo. Che bello. Che bella cappella. Eh, vabbè, voi morite, perché non c'ho voglia. Ma... A me serve. Non so, grazie. Uh, cos'è? Mmm, il gambero intergalato. Come mamma mia. Qua non ci dobbiamo andare. Eh, un bardo che si ubriacano e non c'entra niente. Cioè, tu mi vuoi dire che in questo posto non c'è una farmacia? Ah. Eh... Sì, va bene. Eh... Allora, facciamo così. Io premo i. Eh... Lei stia qua. Uh, se la picchio mi dà soldi, bene. Lei stia lì, eh. Eh... Vabbè, me lo porto via. Me lo porto via. Me lo porto via. Uh, un'idea, ragazzi. Aspetta. Aspettate. Ok, vi sto facendo vedere molto in modo minimale questo DLC, perché è bello grosso. Quindi faremo altri episodi. Però voglio fare un po' di cavolate su questo DLC, perché è la cosa migliore di Gozzi volete. Allora... Voi fate protesta? Lo state bullizzando? Uh... Uh... Ragazzi. Per la gloria! Mi faccio splodere! Uh... Oh... Cavolo. Uh... Ahia. Beh. Eh... Eh... L'attentato terroristico ha funzionato, ragazzi. Però... A me. Cioè... Non saprei che dirvi, ragazzi. Eh... Lei venga con me. Sì, lei venga con me. Eh... La buttiamo in acqua insieme al suo amico. Poi... Quello che scappa... Non scappa, lei. Scappa? Scappa! Oh... Eh... Ok. Mmm... Tetro! Dite, ragazzi, se volete qualche gioco che vi porti nel mio canale. Eh... Voi cosa avete? La nuca cola? La bottiglia? Che no! Se ne accorta! Se ne accorta! Se ne accorta! Se ne accorta che li sto rubando! Eh... Prendi la bottiglia! Eh... Salvala! Prendi lei? No! No! Mamma mia! Prendila! Buttala nel lago, ok? Annegherà! Eh... Poi... Aspetta! Oh, io... Io mi rubo il cibo intanto, eh! Questo è un sacco. Fly me to the moon! Eh... No! Comunque, ti butto ugualmente in mare, che anche lei dovrebbe negare. Sì, le conosco! Sì, le conosco! Non sanno notare! Quelle due sono sceme! Mmm... Ah! Eh... Queste casse dorate dovrebbero dare più soldi, se non mi sbaglio! Vero? Sì! Ok! Eh... Mi porto via questo kit! Grazie! Sì! Sì, la cassetta è degli attrezzi! Che bello! Ok, no! Però... Lo salvate nel mio inventario! Eh... Cassetta è degli attrezzi! Eh... Oh, la la! Aiuto! Sto vicino a una cascata? Benissimo! Ma... Ehi! Qua! Una bibita! Mia! Mia! Eh... Oh! Sto facendo yoga! Questo è un coso che ti lancio e non ci andrò! Oh! Interessante! Oh! 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 Signora! Ma... Eh... Lui usa il cellulare durante le lezioni? Lui usa il cellulare durante le lezioni? Le lezioni, ragazzi! Non le lezioni! No! Perché peggiate? Mmm! Perché scappate da me? No! Andate! Non mi vogliono bene! Ehm... Ehm... Spray? No! Che figo! Posso... No! Posso disegnare! No! Da qua... Dove l'ho mangiato? Da quando questa cosa? No! Scusate, ma è anche più bello! Com'è che sì? Come l'ho usata? Ah! Perché lo puoi fare solo una volta? Più basta! Questa! Questo puoi fare su tutti i muri? No! Vabbè! Amen! Eh... Vabbè! Cosa potremmo fare ora? Andiamo qua un attimo! Ehm... Ah! So cosa potrei fare! Allora! Quelli del centro informazione ogni volta gli chiedo le cose non sanno rispondermi! Perciò lo faremo sembrare per un ubriaco! Eh... Quindi andremo qua! E li lasceremo tutte le bottiglie! Tutto il cibo! Sul lavoro! Così poi quando andranno a fargli visita vedranno tutto il cibo e tutte le bottiglie! E poi... Subito lo... Licenzieranno! Tu vieni con me robottino il mio! Oh mamma mia! Eh... Colpa del robot! Lo stupido robot ha fatto tutto lui! Eh... Il boombox non lo ha fatto via! Ha fatto tutto lui! Colpa del robot stupido! Colpa del stupido robot! Li sto difendendo! Ok! Sta scappando! Sta scappando! Perfetto! Ah questo è bellissimo! Guardate! Quando tu li tiri la testata! Oltre che lui! Va beh! Andato via! Guardate! Andiamo! Perfetto qua! Ecco spara! Spara le bottiglie! Troppo bello! Uiii! Pfff! Distrutto! Ok scusate! Ma questo DLC è il più bello! Quindi... Na 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 na! Perché piangi? Ti do io un motivo per piangere! Ti ennego! Ok! Eh... Va bene ragazzi! Io direi che per questo video è tutto! Da Kindergarten è tutto! E ci vediamo ad una prossima puntata! Se vi non è piaciuto ovviamente lasciate like! E iscrivetevi! E quindi... Che posso dirvi? Se non che mi hanno negato l'accesso di nuovo! Che bello! Comunque... Ciao!